Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo il tema della lettura delle carte aeronautiche con l'argomento delle carte visual, quindi le carte visuali che possono essere utilizzate sia per il VFR e sia per i visual approach. Come ogni video di questa serie vi premetto che è necessario aver visto i video precedenti perché chiaramente alcune cose non verranno ripetute, per iniziare dobbiamo procurarci queste carte visuali e per farlo utilizzeremo le carte presenti nell'IP in modo tale da dare un'infarinatura di base e comprendere alcuni concetti che sono validi sia per le carte dell'IP sia per tutte le altre carte perché alla fine le carte sono abbastanza standardizzate. Per poter trovare la carta visual dell'aeroporto che ci interessa dobbiamo accedere come di consueto all'IP nella sezione AD2. Per farlo vi invito a vedere il video il primo di questa piccola serie che ho realizzato dove vi spiego come navigare nell'IP e andare a cercare l'ICAO dell'aeroporto, nel nostro caso stiamo utilizzando l'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi Lima India Romeo Foxtrot, l'IRF, e andare ad aprire la carta numero 5. Prima di iniziare una domanda lecita potrebbe essere ma come mai esiste questa carta in un aeroporto che non è aperto al traffico VFR? Beh, dovete sapere che questa carta non è riferita al traffico VFR ma è riferito a un tipo di avvicinamento che si chiama visual approach, ovvero avvicinamento visuale, che fa sempre parte degli avvicinamenti strumentali. Questa può sembrare una contraddizione e sicuramente la analizzeremo meglio in un video più in là, però giusto per darvi un'infarinatura di base sappiate che un volo strumentale, quindi un volo IFR, che si avvicina a un aeroporto può richiedere l'autorizzazione ad effettuare un avvicinamento visuale. Avvicinamento che verrà condotto sì con tutti gli ausili possibili dell'aeromobile, quindi non è detto che non si possa utilizzare il pilota automatico, che non c'entra niente con il volo strumentale, è solo un ausilo al volo, non è detto che non si possano utilizzare le radioassistenze, quello che però si va a richiedere è utilizzare principalmente il senso della vista, facendo un po' un ritorno alle origini del VFR. Il volo non smette di essere IFR, quindi continua ad essere IFR, però viene condotto appunto con questi ausili, che sono ausili a vista, quindi per esempio potrebbe essere qualche caratteristica geografica come il corso di un fiume, l'utilizzo delle città e così via. Sostanzialmente però nella pratica comune l'avvicinamento visuale viene effettuato quando si ha praticamente il campo in vista, anche se non è strettamente necessario, mentre è obbligatorio avere delle condizioni minime meteorologiche per cui praticamente l'aereo deve essere fuori dalle nuvole e avere contatto con il terreno, contatto visivo con il terreno. Il visual approach può anche non essere autorizzato dal controllore, infatti a discrezione del controllore decidere se concederlo oppure no. Ma comunque del visual approach parleremo poi più in là, oggi ci dedichiamo alla lettura della carta che si trova in prima pagina nella carta appunto AD2 Lima India Romeo Foxtrot 5-1, che per inciso è quel file che contiene tutte le carte di avvicinamento e quindi anche quella di cui noi oggi necessitiamo. Quindi troviamo una carta di colore viola. Iniziamo come sempre da leggere la carta e quello che c'è attorno, quindi il titolo riporta Icao Visual Approach Chart, quindi carta di avvicinamento visuale Icao. Subito sotto abbiamo una scala, quindi la scala della carta che è una 250.000, significa che ogni centimetro della carta corrisponde a 250.000 centimetri nella realtà. Un metro sulla carta, quindi se noi misuriamo una linea di un metro, è un po' difficile su una carta 4 però, immaginiamo di poterlo fare, ecco quella linea di un metro nella realtà corrisponde a 250 chilometri, ovvero a 250.000 metri. Se disegniamo un millimetro, avete capito, quella dimensione che noi andiamo a tracciare sulla carta corrisponde nella realtà a 250 metri, ovvero a 250.000 millimetri. Subito sotto troviamo una scala vera e propria disegnata dove appoggiando un righello noi possiamo facilmente confrontare delle distanze presenti sulla carta con il fattore di scala sia in miglia nautiche che chilometri. Immaginiamo di prendere una dimensione per esempio sulla carta, come può essere la lunghezza di una delle piste di fiumicino, rapportarla, quindi portare questa dimensione che noi abbiamo individuato sulla scala e avere direttamente la misura o in chilometri o in miglia nautiche. Subito a destra abbiamo le varie frequenze, per esempio del FIS, dell'Approach, della Torre, dell'ATIS di fiumicino. Leggiamo l'elevazione, AD sta per aerodrome, ovvero aeroporto, quindi elevazione di aeroporto 14. Qui non ho capito perché non hanno scritto che sono piedi, infatti una carta visuale può essere facilmente confusa con delle misure in metri, per cui sarebbe stato meglio mettere i piedi, quindi esplicitare che 14 sono piedi, anche perché in nessuna parte della carta si dice tutte le misure delle quote sono in piedi o sono in metri, in questo caso sono in piedi, per cui si utilizza lo standard aeronautico. Subito a destra troviamo Lima India Romeo Foxtrot che è il codice ICAO di fiumicino e infatti Roma fiumicino subito a destra. Vediamo che la carta colorata è bordata da una serie di reticoli, sia in senso verticale che orizzontale, che ci riportano le coordinate geografiche della carta stessa, quindi vediamo 42 gradi nord, 41 gradi 50 primi nord, ovviamente dico nord perché noi siamo a nord dell'equatore, e poi troviamo per esempio 12 gradi est, anche qui dico est perché noi siamo ad est del meridiano di Greenwich, 12 gradi 10 primi est, 12 gradi 20 primi est e così via. E poi entriamo nel merito della carta. Prima di insomma perderci un po' in tutti questi simboli che ci sono andiamo a vedere questa freccia che si trova in basso a sinistra e che ci dice della declinazione. Che cos'è la declinazione magnetica? Si tratta di un valore che ci indica lo sfasamento angolare, ovvero quanti gradi ci sono di differenza tra il nord vero, che è il polo nord della Terra, e il nord magnetico che non coincide chiaramente con il nord vero, si trova all'incirca nei dintorni del nord del Canada. E qui vediamo che agli inizi del 2005, qual è il senso di 2005,1, quindi vuol dire nel primo decimo di anno del 2005, questa declinazione corrispondeva a due gradi est, ovvero il nord vero, se noi prendiamo una bussola e misuriamo per esempio una prua di 180, beh il nord vero è più ad est di due gradi, o meglio era più ad est di due gradi nel 2005, quindi significa che il nostro nord vero sarà 182 nel nostro esempio, quindi dovremo sommare. E come facciamo ad avere la declinazione in questo momento? Beh sotto leggiamo che ogni anno c'è un cambiamento di 5 primi verso est, quindi la declinazione sta effettivamente aumentando, e quindi se facciamo un conto dal 2005 ad oggi sono 13 anni, dobbiamo fare 13 per 5 primi, e quindi abbiamo 65 primi est. 65 primi vuol dire un grado e 5 primi, quindi l'attuale declinazione è di 3 gradi e 5 primi est, per cui nel nostro esempio la nostra prua magnetica di 180 letta sulla bussola diventa una prua vera a 183 gradi e qualcosina. Questo lo dico anche per fare un rinfresco su questo argomento. Entriamo nel vivo della carta, che presenta una vastità di simboli non indifferente. Iniziamo dall'alto a sinistra. Questo 1411, quindi 1411, con un puntino nero e bordato, significa che questo è l'ostacolo più alto della carta e l'ostacolo si trova dove c'è il puntino nero, ed è alto 1411 piedi sul livello del mare, quindi vuol dire che rispetto al mare questo ostacolo è alto poco più di 400 metri, 1411 piedi appunto. Subito sotto vediamo un 500 in rosso. Questo significa che il terreno in basso a questo numero, quindi la parte marroncina un po' più chiara in basso al 500, è alta all'incirca 500 piedi, va da 250 a 500, mentre la parte superiore, più scura, verso insomma il nord di questo 500, va da 500 a 750. Come faccio a sapere la separazione? Questa la intuisco perché se scendiamo un po' a destra, in basso, vediamo che troviamo un 250 che ha la stessa funzione. Vuol dire che tutto il terreno a sud, quello praticamente giallino, quasi bianco, possiede una quota da 0 a 250 piedi, mentre tra questa linea un po' più marroncina, un po' più scura e quella successiva, il terreno va da 250 a 500 piedi. Queste si chiamano isoipse e uniscono punti di uguale altitudine, quindi lungo questa linea abbiamo tutti i punti da 250 piedi, lungo la linea che troviamo più a nord abbiamo tutti i punti da 500 piedi e così via. Andando verso destra, a destra del 500 rosso, leggiamo Roma CTR zona 5, 350FT che sta per piedi, AMSL, AMSL è una sigla che significa Above Mean Sea Level, ovvero al di sopra dell'altezza media del mare, e poi vediamo una linea e subito sotto leggiamo 1500 piedi. A destra leggiamo una D. Ecco, questa cosa la trovate su moltissime carte. Cosa significa? Significa che la zona di controllo di Roma, la zona 5 di Roma, è uno spazio delta, quello è il senso della D. Abbiamo parlato della classificazione degli spazi aerei, vi invito a vedere il video nel caso ve lo siate persi, e questa zona parte da 1500 piedi e arriva fino a 3500 piedi, quindi ci dà l'estensione orizzontale, vedete tutta la zona a nord di questa linea a tratto punta, e ci dà anche l'estensione verticale, quindi da 3500 piedi in giù fino a 1500 piedi. Lo dovete immaginare come un biscotto appunto di estensione geografica disegnata qui da questa linea e anche di estensione verticale. Infatti poi vedete che sulla linea tratto punta subito sotto trovate appunto scritto zona 5 a nord, significa quella a nord è la zona 5 e quella a sud è la zona 1, e poi c'è esplicitato Roma CTR zona 1 va da 3500 piedi, sempre sopra il livello medio del mare, fino a SFC. SFC sta per surface, ovvero superficie, quindi fino alla superficie del terreno. In questo caso non fino a livello del mare, anche se ci interessa poco, visto che non possiamo trivellare il terreno, ma fino alla superficie del terreno. E la D sta sempre a significare spazio aereo di classe delta. Subito a destra troviamo questo simbolo con scritto 794, poi tra parentesi 329, con due antennine che sembrano emettere qualcosa. Quello è un simbolo che sta a significare che esiste un ostacolo di origine artificiale, può essere un'antenna, un traliccio, qualcosa del genere, illuminato, quello è il senso dei baffetti che ci sono in alto, quindi è un ostacolo correttamente illuminato, che è alto 794 piedi sul livello del mare, quindi rispetto al mare, e rispetto al terreno è alto 329 piedi, quindi è alto all'incirca un centinaio di metri. Sicuramente sarà un'antenna. E questo gruppo di ostacoli, perché ce ne sono due, sono nel punto rosso. Vedete, fra i due ostacoli c'è un puntino rosso, significa lì è presente questo gruppo di ostacoli illuminati. Subito sotto troviamo, vicino a 427, che identifica un picco, difficilmente identificabile nella posizione, si intravede dietro questo simbolino rosso, se ci fate caso c'è proprio un minimo di puntino. Abbiamo questo punto rosso con due ostacoli, in questo caso il simbolo significa ostacolo molto alto, quindi fare attenzione, è un ostacolo molto molto alto, che è illuminato, sempre i baffetti in su, questo è il senso di questa immagine, che è alto 906 piedi sul livello del mare e lui è alto 500 piedi, quindi parecchio alto. Sicuramente anche qui un gruppo di ripetitori televisivi o telefonici, suppongo. Andando sulla sinistra della carta, vicino alla linea che separa la terra dal mare, vediamo che sono rappresentate strade, viadotti, qui vediamo che sono rappresentati dei ponti, questi di grigio scuro con i baffetti, proprio perché questa carta serve come riferimento visuale, quindi io comparo quello che c'è sulla carta con la realtà e cerco di capire quello che sto guardando. Quindi sono rappresentate strade, ferrovie, fiumi, il mare stesso, è tutto quello che mi può essere utile per un avvicinamento visuale, quindi fatto con gli occhi. In alto troviamo 548 con un puntino nero, in quel caso vuol dire questo è un ostacolo, non è il più alto della carta in quanto non è contornato di nero, e questo ostacolo, questa montagnetta, è un ostacolo naturale, alto 548 piedi, sempre sul livello del mare. Poi qui vediamo una costellazione di scritte tra le più varie, abbiamo per esempio le frequenze degli NDB, abbiamo le frequenze dei VOR, la tipologia di Papi, delle varie piste di Fiumicino, vediamo la rappresentazione di Fiumicino e poi vediamo questo cerchio che dice Roma Fiumicino a TZ, questa è la zona d'aerodromo di Fiumicino in cui ha giurisdizione la torre di controllo, quindi sappiamo dove c'è la TZ, ovvero la casa dell'aeroporto. Subito a sud della TZ vediamo c'è scritto litorale romano sempre dalla superficie fino a mille piedi, in questo caso AGL significa Above Ground Level, ovvero non più sul livello del mare ma sul livello del terreno, quindi mille piedi sopra il livello del terreno, quindi può seguire l'andamento del terreno, sempre mille piedi sopra. Abbiamo questo simbolo di Aquila, vuol dire area ad interesse faunistico, ovvero un'area dove possono esserci grandi quantità di volatili e quindi prestare attenzione sia per l'aereo, sia perché quelle sono aree protette che sono vietate al sorvolo, quindi non possiamo sorvolarle più bassi di mille piedi AGL. Poi vediamo subito a destra di questo litorale romano zona faunistica protetta questa linea grigia con un retino con tanti puntini, quelli sono i centri abitati, significa che in quella zona dove c'è questo riempimento a puntini grigi lì c'è un centro abitato, c'è una città, quella dovrebbe essere, se non mi sbaglio, la città di Fiumicino. Andando a destra troviamo una zona contornata di viola con il contorno fatto da tante linee diagonali sempre viola, con scritto R43, Romeo 43. Quella è un'area riservata e va dalla superficie fino a 1500 piedi sopra il livello del terreno, significa che non è impossibile accedervi ma che per accedervi bisogna coordinarsi con il servizio di controllo del traffico aereo, quindi bisogna chiedere se la zona non è interessata da determinate attività e se autorizzati si può accedere appunto alla zona. Andando in alto troviamo dei triangolini viola pieni, quelli sono punti di riporto VFR, significa che ogni volta che io arrivo per esempio a Ponte Galeria, spero di averlo letto bene, quello Romeo Foxtrot Eco 1 significa Roma Fiumicino Est.1, quindi è il primo punto ad est di Roma Fiumicino. Io devo riportare per radio, mi trovo su Ponte Galeria o Galeria a questa determinata quota. Troviamo altri punti di riporto visuali, per esempio questa Sierra Sierra 1 Aurelia e in questo caso vediamo Romeo Foxtrot November Eco 1 sta per Roma Fiumicino Nord Est.1 e quindi posso riportarla sia col nome proprio che con il nome appunto Romeo Foxtrot November Eco 1. Se andiamo a nord vediamo che la Giustiniana ha un triangolo rosso. Che cosa significa questo triangolo rosso? Significa che quello è un punto oltre il quale proveniendo dalla rotta che vediamo a destra, ovvero da prima porta, se io arrivo da prima porta, arrivo su quel punto, per andare oltre devo chiedere l'autorizzazione, non posso praticamente attraversare quel punto senza chiederlo a nessuno, lo devo riportare, devo essere autorizzato a superarlo e per effetto di questo chiaramente in quel punto io posso orbitare, significa che se io arrivo non riesco a mettermi in contatto con l'ente di controllo o l'ente di controllo non mi autorizza, posso mantenere massimo quel punto, non posso andare oltre. In questo caso la Giustiniana riporta Romeo Uniform Whiskey 1 che sta per Roma Urbe West, quindi Ovest, punto 1. E vedete che a destra di questo punto rosso c'è una linea viola, ce ne sono in realtà due che partono da questo punto, una che in realtà queste sono linee che arrivano più che partono e quindi vediamo la rotta che va verso nord-est, praticamente la rotta che va verso est, verso prima porta. Ecco, quelle sono rotte VFR, significa che per esempio il controllore può dire segui la rotta VFR che ti porta dalla Giustiniana fino a prima porta e quindi noi sappiamo la linea che dobbiamo seguire. Possono essere rotte obbligatorie o rotte facoltative, dipende da quello che ci dice il controllore e da quello che c'è scritto sempre nell'IP. Bene, su questa carta non c'è molto altro da dire, quello che vi ho detto in questo video vale più o meno per tutte le altre carte. Adesso avendo fatto la carta visuale, avendo visto un po' di che cosa si tratta, passeremo alle carte di avvicinamento e alle carte di partenza strumentale, ma prima abbiamo bisogno di capire come funzionano le radioassistenze che appunto determinano l'esistenza di queste procedure. Per farlo dovrò purtroppo, ma anche per fortuna, fare dei video in cui vi parlo di come funzionano le radioassistenze e come funziona la propagazione dei segnali nell'aria. Sono video comunque interessanti che vi possono servire anche per ambiti che non c'entrano praticamente nulla con l'aviazione, per cui spero che siano interessanti. Bene, il video termina qui, io spero sia stato interessante, se lo è stato mi invito a mettere mi piace, a commentare se avete dei dubbi, dei suggerimenti o delle domande e a condividerlo con i vostri amici. Ricordate che se l'8 settembre vi trovate dalle parti di Bari c'è il raduno di Oneira, trovate tutti i dettagli in descrizione e in quel caso spero di vedervi numerosi, anche perché ci sarà la possibilità di volare insieme. Come sempre non fatemi mancare i vostri commenti e se trovate un cuoricino a fianco a uno dei vostri significa che ho gradito o vi ringrazio per quello che avete scritto. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. Grazie a tutti.